E' una pioggia torrenziale quella che accompagna Padova e Pescara nella seconda giornata di ritorno del girone B di Serie B di Luvia sul campo di Via Vermigli dove le biancoscudate ospitano quella che è la cenerentola del girone. Il Pescara infatti è ultimo in classifica, ferma ancora un punto, ha subito ben 48 gol in stagione, potrebbe sembrare una passeggiata e invece non lo è. Dopo un minuto c'è subito questa occasione per il Padova, più che altro è un'occasione creata dal campo reso molto insidioso dalla pioggia. Poi dopo 10 minuti si fa vedere il portiere biancoscudato Anna Pacagnella all'esordio, la giovanissima portiere in Serie B, mentre al ventesimo è il Pescara a costruire l'azione più pericolosa del primo tempo con questo destro di confessore che termina a lato. Il Padova fa molta fatica nei primi 45 minuti, questa praticamente è l'azione più pericolosa al quarantesimo, un batti e ribatti in aria dopo il tiro di Rossella ad Antonio. Nel secondo tempo però sarà tutto un altro Padova dopo appena 3 minuti, ecco la classificazione di Claudia Ferrato che salta 3 avversari in progressione, poi però arriva davanti al portiere e cicca il sinistro. Quarto minuto, Marianna Fabruccio è molto brava a liberarsi così di un avversario, il suo destro però poi è troppo lento, il portiere lo divia in calcio d'angolo. Sul calcio d'angolo successivo, guardate Aurora Favero che riesce a recuperare così il pallone, lo mette in mezzo e Marta Michelon riesce a sbloccare il risultato. Sono bastati praticamente 6 minuti di assedio al Padova nel secondo tempo per trovare il vantaggio, anche scacciare l'incubo che stava diventando questa partita. Il Padova poi ha il merito di non mollare, di cercare subito di chiudere la gara e colleziona quindi tante occasioni. Riana Catuzzo all'ottavo con il destro, sfiora soltanto il palo, poi calcio d'angolo. Questo è uno schema già visto in stagione per il sinistro di Alessia Mazzucato che però termina fuori. Ancora Padova, ancora sulla destra con Claudia Ferrato, il destro in diagonale, la palla ancora fuori, contropiede per il Padova. Qui siamo alla mezz'ora, brava Aurora Favero a servire, Claudia Ferrato che salta un avversario, poi con il destro segna il 2-0. È il suo 14esimo gol in campionato. Il Padova chiude la partita con un buon secondo tempo dopo aver sofferto troppo nel primo tempo. Rivediamo il gol di Claudia Ferrato. È 2-0 per il Padova, Padova che non si accontenta, cerca anche il Tris, la neoentrata. Ilaria Lancellotti ci prova con il destro ma non inquadra la porta. Va comunque bene così, finisce 2-0 tra Padova e Pescara. Le biancoscudate vincono, restano al terzo posto in classifica in attesa di quello che sarà lo scontro diretto di domenica prossima quando il Padova farà vita alla capolista Sassuolo. Ma a fine partita c'è spazio soprattutto per tanta commozione. Le biancoscudate infatti salutano così la compagna Claudia Saggione alla sua ultima gara casalinga prima di trasferirsi negli Stati Uniti. You'll never be alone, non sarai mai sola. Questa la dedica per Claudia Saggione.